Buongiorno e benvenuti a questa è la segna stampa di oggi 5 novembre. Vediamo subito quali sono tutti quanti le notizie fondamentali dei giornali di oggi. Ovviamente la cosa fondamentale per tutti quanti i giornali è la chiusura dell'ILVA, l'ipotesi della chiusura dell'ILVA. Quello che è successo è molto semplice, ho cercato di spiegarlo anche ieri sera a Quarta Repubblica e oggi sul giornale ho fatto un fondo, anche perché di questa vicenda io me ne occupo esattamente dal luglio del 2012 quando furono arrestati Emilio Riva, alcuni dirigenti dell'ILVA, furono sequestrati l'era a caldo dell'ILVA e già da quel momento si capì, saluto Marco, Bianca, Rosanna che sono in collegamento, Asia e Matteo e tanti altri invece su Instagram. Un saluto anche a Youtube e tutti quanti abbiamo chiuso tutti i saluti di tutti quanti. Romana ad alta mura, fantastico. Allora cosa succede nel luglio del 2012? Arrestano i Riva per disastro ambientale e il procuratore a farlo è questo Sebastio che poi si candiderà anche a fare il sindaco della città, poi diventerà assessore della sercittà, poi rimanderà la sua pensione, insomma una sorta di accanimento giudiziario, avete capito bene, che inizia a luglio del 2012 e si compie attraverso atti di fersi, tra cui per esempio sequestrare sul piazzale dell'ILVA, nonostante ci fosse un decreto di dissequestro, un miliardo e mezzo di materiale di acciaio, sapete perché? Perché considerati corpo del dato, c'erano dei magistrati che non volevano l'esistenza dell'ILVA a Taranto e su questo hanno costruito una montagna di accuse nel luglio del 2012 che ancora non sono state sentenziate neanche una volta in primo grado. E' quello che io continuo a urlare da anni, all'epoca si capiva quanto c'era di accanimento, oggi si capisce quanto a poca carne ci fosse dietro a quell'accusa. Ma il punto fondamentale è che siamo arrivati a rederazione, c'è un filologico che molti colgono, io lo scrivo sul giornale ma non sono l'unico, tra le decisioni e il populismo giudiziario del 2012 e il populismo del Movimento 5 Stelle di oggi, che in realtà vuole la chiusura dell'ILVA sperando, come dice il ex ministro del Sud Barbara Lezzi, riportare la coltivazione delle cozze come vocazione di Taranto. L'altra cosa fondamentale è che queste cose adesso non le dico soltanto io, il foglio di oggi scrive Whatever it takes, è molto bello il pezzo di Cerasa, in cui mette in evidenza esattamente questo filo rosso che lega il 2012 ad oggi. Mario Aiello fa un altro pezzo molto bello sul Messaggero, in cui cita i quattro populismi, quello giudiziario, quello del Movimento 5 Stelle, ma anche quello del PD. Emiliano, governatore pugliese, oggi sul fatto, e non solo da oggi, dice che quella roba lì si capiva da tempo che Arcelor Mittal aveva fatto un'offerta che a lui non piaceva e che non era l'offerta giusta. E anche quello sindacale, perché all'ultimo si è ripreso, ma anche i sindacati non hanno mai amato la famiglia Riva, non certo i loro dipendenti che lo stipendio alla fine del mese lo prendevano quando c'erano i Riva. Fanno fallire l'Italia, giustamente titola il giornale, perché l'Ilva rappresenta l'1,4% del pilo italiano, o meglio, in maniera mal contata, sono 24 miliardi, calcolando tutto l'indotto. I dipendenti, secondo il Corriere, sono 10.700, che cerca sempre di sminuire la gravità di questa vicenda, poi pezzo affidato a Fubini, pensate un po' voi. Mentre invece altri giornali dicono 15.000, ma signori, non sono né 10.700 né 15.000, quando salta un'azienda che ha 10.700 dipendenti come l'Ilva, e questi dipendenti rischiano di andare tutti a casa, non ci saranno più i bar che li forniscono, non ci sarà più la cartigienica nei cessi dell'Ilva venduta, i distributori, le macchinette del caffè, i padroncini, le navi. Capite che l'indotto di una roba che ha 10.700 dipendenti ne vale altrettanti, lo Svimez li certifica in 30.000, vuol dire che questa roba qui, se dovesse saltare, varrebbe due volte la crescita economica che noi presumiamo scritto nel Nadef l'anno prossimo per l'Italia. Avete capito cosa vuol dire l'Ilva? Toc toc, deficienti del Movimento 5 Stelle, che fate i fenomeni perché adesso avete lo stipendietto e potete pensare all'Italia verde, l'Italia ambientale, vi spieghiamo noi dove va a finire. Siete dei criminali, criminali e se io fossi uno dei 10.000 dipendenti dell'Ilva verrei con i forconi sotto il Parlamento a dire che cazzo state facendo. L'ultimo ricatto invece per il Fatto Quotidiano è quello di Mittal perché secondo il Fatto Quotidiano Mittal sta ricattando l'Italia, ma non è soltanto il Fatto Quotidiano, cercare di dirlo anche ieri italese, per avere 5.000 persone in meno a lavorare e quindi chiudere le parti a caldo, cioè gli alto forni e fare soltanto la laminazione. Che il mercato stia andando male, che Mittal stia facendo il fenomeno, che siano degli spregiudicati imprenditori come tutti gli imprenditori che guardano solo a una cosa, e cioè giustamente al profitto, non c'è dubbio. Ma se lo Stato italiano ci mette davanti il culo ai calci, beh, forse fa male, che dite? Aver tolto lo scudo penale ai dirigenti e agli amministratori e ai capi reparto dell'Ilva è una stupidaggine che anche Landini dice in maniera chiarissima, perché è stato firmato un patto e quel patto si rispetta e quel patto comunque ha una logica, soprattutto se tu ti occupi dell'Ilva, in cui un magistrato si sveglia, sequestra, arresta e manda in galera per cose che arrivano anche da ieri. Direi che le altre due notizie sarebbero il Colle che è preoccupato, ma mi sembra che il Quirinale fino a proprio contrario non si occupa della politica economica del Grazie Silvia che mi fa i complimenti per il pezzo scritto oggi sul giornale, ci tengo particolarmente il mio pezzo del giornale, lo metterò più tardi ovviamente anche su, vabbè, leggetevelo perché è molto interessante, secondo me è perché ci creda questa cosa dell'Ilva, il Quirinale si starebbe occupando di questa vicenda, ma a che titolo lo sa solo il cielo, e l'altra cosa che non so a quale titolo, anche Renzi, secondo quale giornale, non mi ricordo quale, Repubblica avrebbe già un'alternativa, Renzi, il bullo, Renzi, il fenomeno sa tutto io, avrebbe una cordata alternativa, insomma il ragazzo da Rignano a Riad ha capito che forse da solo può trovare degli investitori così che arrivano al volo e dentro ci sarebbe anche CDP. Vi segnalo, perché poi le cose bisogna un po' saperle, che per fare una copertura, una copertura dei parchi in cui viene tenuto il carbone, una copertura che viene richiesta dalla certificazione ambientale e si devono spendere 400 milioni, 400 milioni, per accendere un alto forno che è stato spento ce ne vogliono 200, allora secondo voi è l'aria questa che noi prendiamo 600, 700, 800 milioni, un miliardo e due doveva investire gli indiani, diciamo anche la metà, 600 milioni di una cassa depositi e prestiti in un paese in cui vanno a raccattare un miliardo di euro con la plastic tax, secondo voi, o 200 milioni con la sugar tax, sulla plastic tax oggi interviene il ministro Costa, che ti ho raccomando quello, il ministro che dice che è utile anche se verrà migliorata, il sole 24 ore ci spiega che verrà migliorata in una certa maniera, è rimodulata ma ancora non si sa bene come, molto più interessante due pezzi, quello del giornale in cui gli imprenditori della plastica iniziano a dire sciopero fiscale perché noi riportiamo le chiavi delle nostre aziende come l'Ilva al Palazzo Chigi e poi ci pensate voi, stiamo parlando del plastic in Emilia Romagna, vale come l'Ilva Taranto, cioè vale un punto e mezzo, un punto del PIL, vale 18 mila dipendenti, insomma vi rendete conto di che cosa stiamo distruggendo, il quotidiano nazionale intervista Galletti ex ministro del PD in cui dice PD stai attento, la plastic tax è un autogol, altre tre cose vi segnalo, un'intervista a Salvini che si dice che essere emozionato dell'intervista fatta da Ruini che lo vuole incontrare e che vorrebbe Salvini incontrare Luciana Segre intervista che rilascia al Corriere della Sera e sostiene una cosa molto importante, chissà se ha qualche sondaggio che non lo confortano, cosa dice Salvini? L'Emilia non è la madre di tutte le battaglie, devo dire che forse si sente meno sicuro, Renzi invece al giornale dice non capisco perché il PD combatta contro di me e non contro le tasse, questo sostiene Renzi alla Laura Cesaretti a cui rilascia un'intervista. Daniera dice che il calendario è stato veramente specifico, non so cosa vuole dire specifico, secondo me è stato veramente bravo. L'ultima intervista che vi segnalo oggi, che è quella che vale più se posso permettermi rispetto a quella di Renzi e a quella di Salvini che più o meno dicono le solite cose, è l'intervista a Berrettini e voi direte chi è Berrettini? Se non lo sapete siete dei cornuti, è un giocatore di tennis italiano che da 40 anni non si riusciva entrare tra i primi dieci al mondo, è il numero 8 del mondo, oggi intervistato dalla stampa, almeno per me che gioco a tennis è molto divertente. L'ultima cosa che vi segnalo arrestano l'assistente parlamentare di una deputata, questo assistente parlamentare utilizzava appunto la procedura che i parlamentari hanno di andare a visitare le carcere con compiti ispettivi perché mandava dei pizzini ai mafiosi in 41 bis e su questa cosa si apre una voragine di politica, il fatto quotidiano ci si butta come se fosse lo scandalo degli scandali, beh obiettivamente non è una cosa da tutti i giorni pensare che i mafiosi attraverso l'assistente di un parlamentare mandano messaggi ai loro boss che sono fuori dal carcere, è una cosa incredibile, però Travaglio nota che la parlamentare in questione che aveva questo assistente che era un radicale, è una parlamentare di Leu, prima di Leu e oggi di Renzi e già dice ma come può passare una da Leu a Renzi lo so solo il cielo e devo dire che concordo con Travaglio per una volta, ma in più dice Leu è il partito di Grasso, il procuratore antimafia e voi mi state dicendo qual è il filtro dei partiti ai propri e qui c'è il solito moralismo di Travaglio come se Grasso presidente del partito dovesse controllare il casellario giudiziario, i contatti, dovesse avere una specie di spettro per vedere tutti i collaboratori dei suoi parlamentari se hanno qualche problema, devo dire che insomma questa roba è un po' tirata per i capelli, mentre invece la verità di Belpietro la tira dagli altri suoi capelli, sempre Renzi, mentre Travaglio la tira su Grasso, la verità gioca e non ama Renzi è una fissazione di Belpietro e che cosa dice? Insomma però questi due ce li siamo trovati alla Leopolda tutti e due e tra l'altro secondo Travaglio la deputata sapeva che per esempio il suo assistente mandava dei messaggi con la carta intestata della Camera dei Deputati a un mafioso e lei ne era anche compiaciuta. Insomma allora la storia è un po' più complicata e soprattutto dice la verità, adesso vediamo se questa Renziana verrà cacciata dal bullo. Direi che per oggi è tutto, l'ultima notizia non è certamente confortante su di recessione, non è servito niente, il reddito di decideranza lo scrive un po' tutti i giornali tra cui il quotidiano nazionale, Aug Giorgio, ieri ho visto un altro simpatico ragazzo che veniva in trasmissione che è uno dei nostri, un altro Aug, Viva l'Italia e il tuo libro mi scrive uno di voi, il mio libro appunto ricordatevelo, le tasse invisibili lo vorrei ritrovare in classifica su Repubblica e ci godo come un riccio anche nelle prossime settimane. Comprate le tasse invisibili, non ce l'ho con me qua dietro, però insomma sapete di che cosa parlo sul mio sito tutte le altre informazioni. Ciao!